Ancora un episodio di violenza a bordo dei treni. Sono tutti residenti tra Lucca, Bagni di Lucca e Borgo Amozzano i sei giovanissimi arrestati stanotte dai carabinieri, dopo aver minacciato e rapinato tre ragazzi minorenni a bordo di un convoglio che stava raggiungendo la stazione di Montecatini. I sei giovani intorno alle 23 di ieri, mentre viaggiavano su un treno regionale proveniente da Viareggio in diretto alla stazione di Firenze in Santa Maria Novella, hanno accerchiato, accredito e minacciato tre ragazzini, tutti residenti a Montecatini Terme, derubandogli di un telefono cellulare, soldi incontanti, di una custodia e di un caricabatteria per cellulare. Uno dei passeggeri, che aveva assistito alla rapina, nonché il capotreno, che sarebbe stato a sua volta minacciato dalla banda, hanno allertato il 112, che ha inviato le pattuglie alla stazione ferroviaria di Montecatini in attesa che sopraggiungesse il treno. I militari saliti a bordo del convoglio hanno individuato i rapinatori che sono stati bloccati mentre tentavano la fuga.